Carta sconto carburante. Problema risolto, o quasi. Dopo l'incontro di martedì in regione, il sistema ha ripreso a funzionare e le CNS, le nuove tessere nazionali azzurre che progressivamente sostituiranno le CRS regionali, gialle, sono state lette dai dispositivi post dei benzinai per consentire ai cittadini di usufruire dello sconto. Per settimane, molti possessori della nuova tessera nazionale azzurra hanno avuto problemi perché la carta non veniva riconosciuta dai dispositivi per la lettura del codice PIN, essenziale per poter fare rifornimento con lo sconto nelle zone di confine. Per questo motivo, come ricorda oggi Lombardia Informatica in una nota, ai cittadini è stato suggerito di continuare a usare la vecchia carta sanitaria, la CRS gialla, riattivata fino alla scadenza. Dal nostro osservatorio oggi non è possibile determinare se l'eventuale intervento risolutivo sia da effettuarsi da parte del fornitore delle carte al Ministero delle Finanze o dai fornitori dei POS interessati dalla problematica, si legge nella nota di Lombardia Informatica, che si impegna a monitorare la situazione per risolvere rapidamente le criticità. È bastato un accorgimento tecnico per rimettere a regime il sistema della carta sconto carburante, commenta Daniela Maroni, consigliere segretario di Regione Lombardia e rappresentante dei benzinai comaschi. Dopo una serie di confronti con i vertici di Lombardia Informatica, siamo riusciti a capire quale fosse l'incomprensione di lettura dei microchip. Emergenza risolta dunque, ma i dubbi restano, soprattutto alla luce del prossimo invio di 28.000 CNS. Abbiamo già chiesto di effettuare una serie di controlli, conclude Maroni, per evitare di ritrovarci nella stessa situazione.